Casa Azzurri, la casa della nazionale italiana di calcio dal 9 giugno a Montpellier per vivere insieme una nuova avventura. La federazione italiana gioco calcio accoglie a Casa Azzurri aziende, media e istituzioni uniti dalla passione per la nazionale. Casa Azzurri, l'eccellenza del Made in Italy al centro del mondo. In collaborazione con Puma, Team, Eni, top sponsor di Casa Azzurri. Radio Italia, solo musica italiana, un'amica che ti tiene compagni, ti regalerà la bellissima Radio Italia, solo musica italiana.